L'emergenza Covid è costata sino ad oggi alle stalle italiane 1,7 miliardi di euro. E l'allarme è lanciato da Coldiretti che ha chiesto al Presidente Conte, già alle prese con la crisi di governo, un intervento immediato per dare garanzia alle imprese e salvaguardare una filiera che è strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare nazionale. Una situazione difficile che non risparmia nemmeno la nostra regione, dove negli ultimi mesi si è registrato un aumento del prezzo dei mangimi e dei cereali destinati ad uso zootecnico. In quest'anno, inizio 2021, ci sono degli aumenti sensibili che veramente stanno mettendo a dura prova il nostro comparto zootecnico. A fronte purtroppo dei conosciuti problemi, reparto latte sia comparto della carne. Il costo del latte sappiamo benissimo che è rimasto invariato, 37 centesimi litro latte bovino in stalla. Il prezzo della carne è crollato totalmente e siamo veramente al collasso come settore. La situazione non migliora se si prende in considerazione la zootecnia da carne penalizzata dalla chiusura parziale o totale dei ristoranti e del canale Oreca, che ha determinato un calo della domanda con il seguente crollo dei prezzi in vendita. Intanto, Coldiretti e Filiera Italia, sono già al lavoro su nuovi progetti di investimento per la zootecnia attraverso le risorse Next Generation e Recovery Plan. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito alla chiusura di circa del 40% di stalle da carne e del 50% di stalle da latte. È una situazione che mi fa stare molto preoccupato. Tocca veramente trovare degli sbocchi affinché il governo ci sia più vicino e garantisca la sopravvivenza di questo settore.